Con questo tutorial vediamo come risolvere equazioni fratte. Partiamo da questo esempio. La prima cosa che vado a fare è scomporre questo 3x meno 9 mettendo in evidenza un 3. Ora vado a fare il minimo comune multiplo. Come minimo comune multiplo devo prendere i fattori comuni e non comuni con il grado maggiore. Parto dai numeri. L'unico numero che vedo è 3 che lo vado a ricopiare. Poi c'è il fattore x che ho riscritto ed infine vado a ricopiare x meno 3. E quindi questo risulta essere il minimo comune multiplo. Adesso questa quantità diviso questa quantità mi rimane 3x per 2x e scrivo 6x quadro. Questa quantità diviso x mi resta 3 che moltiplica x meno 3 per meno 5 e vado a scrivere meno 15 che moltiplica x meno 3. Ora questo diviso questo mi resta x per 6x e scrivo 6x quadro. Ed infine questo diviso 3x mi resta x meno 3 che lo devo moltiplicare per 2. Semplifico ora i denominatori e impongo le condizioni di esistenza andando a scrivere x ed x meno 3 diverso da 0 ed ottengo x diverso da 0 ed x diverso da 3. Osservo inoltre che qui ho 6x quadro e qui 6x quadro. Allora questo termine lo semplifico con questo termine. Eseguo ora questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Porto 2x a sinistra e 45 a destra. Siccome che la x è negativa posso moltiplicare tutto per meno 1 e andare a scrivere 17x uguale a 51. Divido ora per 17 e poi semplifico. 51 diviso 17 ottengo 3. Allora come risultato ho x uguale a 3. Osservo che nel campo di esistenza avevo detto che x doveva essere diverso da 3. Quindi vuol dire che questo valore non è un valore ammissibile e di conseguenza questa equazione risulta impossibile. In questo esempio la prima cosa che vado a fare è il minimo comune multiplo. E vado a scrivere x più 2 per x meno 7. Ora questo diviso x più 2 ottengo x meno 7 che lo moltiplico per 3x. Questo diviso x meno 7 ottengo x più 2 che lo moltiplico per 2x. Ed infine questo diviso x più 2 ottengo x meno 7 che lo moltiplico per 5x più 6. Semplifico i denominatori e impongo le condizioni di esistenza. Eseguo ora queste moltiplicazioni. Osservo ora che a sinistra ho 3x quadro più 2x quadro, ossia ho 5x quadro. A destra ho 5x quadro. Allora posso semplificare tutto. Ora porto le x a sinistra e i numeri a destra. Sommo ora i termini simili a primo membro e a secondo membro e porto ora meno 29x a sinistra. Posso dividere adesso tutti e due membri per 12 e vado a semplificare. A destra posso dividere numeratore e denominatore per 6 ed ottenere x uguale a meno 7 mezzi. In quest'altro esempio la prima cosa che faccio è mettere qui in evidenza una x. Posso eseguire ora il minimo comune multiplo. Il primo fattore che prendo è x e lo copio e il secondo fattore è 1 meno x. Ora questa quantità diviso 1 meno x mi resta x moltiplicato per 2 e vado a scrivere 2x. A destra questa quantità diviso la stessa quantità è 1 e allora vado a ricopiare soltanto questo 1. Poi questo diviso x mi resta 1 meno x e allora vado a scrivere direttamente 1 meno x. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza. Porto meno x a sinistra e sommo questi 1. Ottengo 3x uguale a 2, divido per 3 e vado a semplificare ed ottengo come risultato x uguale a 2 terzi. In questo esempio la prima cosa che vado a fare è scomporre tutti i denominatori. x alla seconda meno 4 l'ho scritto come differenza di quadrati. Qui e qui vado a mettere in evidenza una x. Eseguo ora il minimo comune multiplo. Questo diviso questo mi resta x per 4 e vado a scrivere 4x. Poi più questo diviso x per x meno 2 mi resta x più 2 moltiplicato 1 e vado a scrivere x più 2. Poi questo diviso questo quello che mi rimane è x meno 2 per 3 e vado a scrivere 3 che moltiplica x meno 2. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza. Sommo 4x con x e qui eseguo la moltiplicazione. Porto ora 3x a sinistra e 2 a destra. Divido tutti e due i membri per 2 e poi vado a semplificare e quello che ottengo è x uguale a meno 8 mezzi. Semplificando per 2 ottengo x uguale a meno 4. In questo esempio qui metto in evidenza un 2, qui scompongo per differenza di quadrati e qui metto in evidenza un 2. Eseguo ora il minimo comune multiplo e lo faccio solo a sinistra perché a destra ho 0. Ora, questa quantità diviso questa quantità ho x più 3 che la devo moltiplicare per x meno 1. Questo diviso questo è pari a 2 per per 6 e scrivo 12. E poi questo diviso questo ottengo x meno 3 che lo devo moltiplicare per meno x. Semplifico il denominatore e impongo le condizioni di esistenza. Eseguo ora questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Osservo che ho x quadro e meno x quadro e quindi li posso andare a semplificare. Sommo ora le x 3x più 3x fase x meno x e vado a scrivere 5x. E poi 12 meno 3 è 9 che lo porto a destra e vado a scrivere meno 9. Divido per 5 e poi vado a semplificare ed ottengo come risultato x uguale a meno 9 quinti. In quest'altro esempio la prima cosa che vado a fare è mettere in evidenza qui un 2 e qui un 3. Scompongo ora x alla seconda meno 4 per differenza di quadrati. Ed ora vado a fare il minimo comune multiplo. Questo diviso questo ottengo 3 che moltiplica x più 2 per 1 e scrivo 3 per x più 2. Questo diviso x più 2 ottengo 6 per x più 2 per meno 2 e scrivo meno 12 per x meno 2. Poi questo diviso questo ottengo 2 che moltiplica x più 5. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza. Eseguo ora queste tre moltiplicazioni. Sommo i termini simili ed ora porto 2x a sinistra e 30 a destra. Visto che la x è negativa moltiplico tutto per meno 1 ed ottengo 11x uguale a 20. Divido per 11 e poi vado a semplificare ed ottengo come risultato x uguale a 20 undicesimi. In questo esempio x quadro meno 1 lo vado a scomporre per differenza di quadrati. Eseguo ora il minimo comune multiplo ed ora questo diviso questo è 1 per 2 e vado a scrivere 2. Poi questo diviso x meno 1 mi resta x più 1 che lo moltiplico per 7. Ed infine questo diviso x più 1 ottengo x meno 1 che lo moltiplico per 1 e quindi scrivo direttamente x meno 1. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza. Eseguo questa moltiplicazione, porto questa x a sinistra e 7x meno x ottengo 6x. Poi 2 più 7 fa 9, portato a destra ottengo meno 9 meno 1 e vado a scrivere meno 10. Divido tutte e due i membri per 6 e vado a semplificare ed ottengo x uguale a meno 10 sesti. Posso dividere numeratore e denominatore per 2 ed ottengo x uguale a meno 5 terzi. In questo esempio la prima cosa che vado a fare è scomporre x alla seconda meno 4 per differenza di quadrati e qui metto in evidenza una x. Posso scomporre x alla seconda meno 4 per differenza di quadrati ed ora eseguo il minimo comune multiplo. Questo diviso questo è x che moltiplica 6x più 1 e scrivo direttamente 6x quadro più x. Questo diviso questo è x meno 2 per x più 2, ossia x alla seconda meno 4 che moltiplica meno 6. E poi questo diviso questo fa 1 per 3 e vado a riscrivere 3. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza. Posso semplificare ora 6x quadro con meno 6x quadro. Porto il 24 a destra ed ottengo come risultato x uguale 3 meno 24, ossia meno 21. In questo esempio qui metto in evidenza un 3 e qui un 2x. Eseguo ora il minimo comune multiplo ed ottengo 6x che moltiplica x più 4. Ora questo diviso 3x è pari a 2 che moltiplica x più 4 per 4 e scrivo 8 che moltiplica x più 4. Questo diviso questo è pari a 2x e vado a scrivere più 2x. Ed infine questo diviso questo ottengo 3 che moltiplica meno x meno 1. Semplifico il denominatore e impongo la condizione di esistenza. eseguo ora queste due moltiplicazioni. Sommo le x ed ottengo 8 più 2 che fa 10 meno 3 e scrivo 7x e poi 32 più 3 fa 35 portato a destra e scrivo meno 35. Divido per 7 tutte e due i membri e vado a semplificare ed ottengo x uguale a meno 35 settimi che è semplificato per 7 è pari a meno 5. Vediamo quest'ultimo esempio. Vado a scomporre x alla seconda più 4x più 3 come trenomio caratteristico. Eseguo ora il minimo comune multiplo ed ora questo diviso x più 3 mi resta x più 1 che lo vado a moltiplicare per x meno 1. Questo diviso questo è 1 e quindi ricopio meno 2. A destra questo diviso x più 1 mi resta x più 3 che lo moltiplico per x più 3 e allora vado a scrivere x più 3 alla seconda. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza. Eseguo ora questa differenza di quadrati e sviluppo questo quadrato di binomio. Posso semplificare le x quadro ed ora porto 6x a sinistra e questo meno 3 a destra. Visto che la x è negativa posso moltiplicare tutto per meno 1 e scrivere 6x uguale a meno 12. Divido tutto per 6 e vado a semplificare ed ottengo x uguale a meno 12 sesti che diviso per 6 è pari a meno 2. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere equazioni fratte.